La storia del ronzino che decretò la fine di Porta Santiseia Attenzione, questa non è una leggenda, ma un fatto di cronaca. In una tiepida mattina della primavera 1902 quando il biroccino di un'ortolana, trainato faticosamente da un vecchio ronzino, transitava sotto la porta di Santiseia accadde che la cornice posta sopra l'arco del cinquecentesco monumento crollasse uccidendo il povero animale e spaventando terribilmente la donna. Questo fatto determinò la volontà di abbattere la bella Porta Santiseia assieme al tratto di mura corrispondente, era l'epoca delle demolizioni di parte della terza cerchia muraria. Così chi si reca oggi nell'area che corrisponde alla vecchia Porta Santiseia, così come d'altronde chi si reca nell'area dove sorgeva Porta San Mamolo, cercherebbe inutilmente traccia dell'antica opera.